ma siamo proprio sicuri che tutti i cibi saziano veramente a volte mangio e mi viene ancora più fame succede anche a me ma in realtà ci sono alcuni alimenti particolari che saziano più degli altri e placano gli attacchi di fame anche con piccole quantità quindi nel complesso fanno mangiare meno oggi vediamo i 5 alimenti più utili da avere sotto mano per quando ci vengono gli attacchi di fame se l'argomento vi interessa fatemelo sapere con un bel like 1 mandorle basta un pugnetto di mandorle al naturale non salate contengono fibre e aiutano a tenere a bada i picchi di insulina e di glicemia che stimolano la fame e causano aumento di peso ci danno anche i grassi essenziali che prolungano il senso di sazietà 2 frutta secca in particolare le prugne secche sono sazianti perché contengono molte fibre notoriamente anche amiche dell'intestino i loro zuccheri naturali soddisfano a lungo la voglia di dolci e in più sono energizzanti e mineralizzanti 3 cioccolato fondente buone notizie un quadrotto di cioccolato fondente con almeno il 70 per cento di cacao come ho detto in questo video è ideale per placare la fame associata a sbalzi di umore infatti contiene magnesio che ha proprietà rilassanti e triptofano un precursore della serotonina all'ormone del buon umore 4 carne di tacchino le proteine saziano davvero se sono ad elevato valore biologico come la carne di tacchino favorisce la sazietà e aiuta a mettere su massa magra magari con qualche galletta di mais può essere uno spuntino ideale a metà pomeriggio per ripartire sazi e senza cali di energia 5 avocado adoro l'avocado e sono sempre felice di leggere che ha tanti benefici lo dice anche la scienza in questa ricerca che trovate in descrizione uno degli effetti positivi è proprio il suo potere saziante dato dalla presenza molto equilibrata in proporzione di grassi e fibre preziosi per l'organismo e in più l'avocado aiuta a eliminare la dipendenza dagli zuccheri come ho spiegato in questo video a proposito di zuccheri per evitare di essere vittime di continui attacchi di fame una buona strategia è limitare il consumo di dolci sembrano dare soddisfazione sul momento invece creano un pericoloso circolo vizioso a tavola preferire verdure cereali integrali proteine magre fibre e grassi sani e per azzerare la sensazione di fame concludere il pasto con una bella tisana calda in descrizione il link al mio ebook per dimagrire con i neuroni della sazietà se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao